Ecco i partiti, ragazzi e ragazze, i nomi di 13 anni, devono perdere i ricorsi per un totale di 1.300 metri, 1.300 metri per questa categoria di ragazzi e ragazze. Dai Cami, Andreino dai, ci diamo in settimana, vai Enrico, Enrico non girarti. Dai Cami, dai, dai, vola! Dai Cami, Andreino dai, vola! Dai Cami, Andreino dai, vola! Dai Cami, Andreino dai, vola! Grazie! 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 Grazie!